Si è svolto anche a Taranto lo sciopero generale indetto a livello nazionale dal sindacato di base Sly Cobas. La protesta si basa contro lo sblocco dei licenziamenti, le disuguaglianze e lo sfruttamento ambientale, come hanno detto gli stessi protagonisti. La manifestazione di protesta è stata inscenata dinanzi all'ingresso principale dell'arsenale militare. L'attenzione dello Sly Cobas ionico si è soffermata sulla conseguenza occupazionale derivante dalla chiusura dello stabilimento Excementir nella zona industriale di Taranto. Tra le altre problematiche che affliggono Taranto vorrei porre l'attenzione su una problematica della procedura di cessazione attività messa in atto dalla CEM Italy, Excementir. Oltre all'abbandono del sito c'è purtroppo anche l'abbandono dei lavoratori. In quest'ottica di abbandono del territorio tarantino dalle grandi SPA, noi chiediamo che vengono integrati, reintegrati i posti di lavoro e che il sito non si deteriori e crei un eco-mostro abbandonato come ce ne sono tanti altri.